Il miracolo crotone ed il talento di Berardi. Luciano Spalletti a Catanzaro per ricevere il premio Nicola Ceravolo ha elogiato il lavoro svolto in questa stagione da Davide Nicola ed apprezzato le qualità del giovane talento calabrese. A Nicola vanno fatti i complimenti per quello che è riuscito a fare perché qui bisogna dare poi i giusti meriti anche alla società di aver saputo proteggere in un momento carico di difficoltà il suo allenatore di credere nel valore della persona, nel valore dell'uomo e lui ha effettivamente fatto un mezzo miracolo perché poi riuscire a portarla alla salvezza dal punto dove le altre poi l'avevano costretta a stare era impensabile. Per cui bravissimi i dirigenti tutti oltre al presidente del crotone bravissimi i calciatori a continuare a credere poi in quello che erano le indicazioni del proprio allenatore. Berardi è un calciatore che vogliono più squadre ora che noi l'abbiamo guardato l'anno scorso alla Roma arrivando all'Inter so che l'ha seguito perché è uno che ha talento, che ha estro è uno di quelli che punta l'uomo perché poi le cose importanti sono queste si va a cercare tante tattiche se hai un calciatore che guarda in faccia il suo diretto avversario e gli passa sopra la tattica è già fatta perché siamo superiorità numerica per cui lui è uno di questi.